quando sento qualcuno che pensa di non fidarsi del vaccino mi viene in mente Galileo Galilei quando ci ha raccontato che in realtà non era tutto intorno alla terra ma c'era l'universo era studiato e pensato in modo differente Galileo ha inventato la scienza moderna oggi dobbiamo fidarci della scienza che ci dice che l'unica via e il vaccino e quindi per me per quello che mi riguarda non ci sono dubbi c'è una sola via il vaccino cosa aspettiamo vacciniamoci